Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che torniamo ad aprire con la protesta dei pescatori e degli armatori perché si allarga, è stato bloccato per due ore oggi l'accesso al porto di Termoli, la marineria è esasperata, i costi per lavorare sono altissimi, la situazione è diventata insostenibile e in apertura ce ne parla Andrea Nasillo. Senza risposte non riprenderanno il largo, le barche restano in porto, la protesta non ha scadenza, i pescatori e gli armatori hanno presidiato per due ore il porto di Termoli all'altezza della rotonda della Paranza, area off limits, una manifestazione autorizzata, il prezzo del gasolio cresce, i costi per la marineria si fanno sempre più alti, lavorare è diventato impossibile. Esasperazione e disperazione attendono le risposte del governo e di tutte le altre istituzioni, chiedono sostegno, risorse che possano almeno tamponare la crisi, non ne possono più, il settore della pesca soffre così anche l'intero indotto non può non risentirne, armatori e pescatori sempre più sul piede di guerra. Stiamo facendo questo segno di protesta, sperando che qualcuno ci cominci a dare un po' retta perché questi altri giorni non abbiamo avuto nessuna concreta risposta da nessuna forza politica che ci interessava. Abbiamo notato che pian pianino si sta estendendo per tutta l'Italia veramente, questo sit di protesta perché effettivamente credeteci veramente che stiamo in difficoltà. Con il prezzo che è salito di questo carburante veramente arranghiamo sia noi che i nostri dipendenti ad andare avanti, non ce la facciamo proprio più. Voltiamo pagina e veniamo all'ultimo bollettino ASREM con i dati Covid in Molise da registrare. Ancora un decesso, un uomo di 92 anni di San Felice del Molise è morto poco dopo il ricovero in malattie infettive. Calano comunque i nuovi contagi che sono 61 su 726 tamponi refertati. Il tasso di positività è all'8,4%, 308. Le persone guarite ci sono poi due ricoveri, un anziano fragile ma anche due dimessi da malattie infettive. Attualmente sono 15 pazienti con Covid in cura al Cardarelli. Scendono a 3.932 gli attualmente positivi nella nostra regione. Dei nuovi contagiati il numero più alto è a Campobasso, 10 casi. E ora apriamo la pagina politica perché dopo la parentesi di bilancio la politica è al lavoro sul pacchetto di nomine in arrivo. A rinnovo infatti i presidenti e i consigli di amministrazione di Fin Molise, Sviluppo Italia e Fondazione Molise Cultura. Nella partita anche la scelta dei commissari IACP. Sentiamo Pasquale Di Bello. Non si sono ancora del tutto spente le luci sulla sessione di bilancio che ha tenuto impegnato il Consiglio regionale per oltre una settimana che già i riflettori della politica si accendono su una nuova pagina da scrivere. Una di quelle più appetibili, visto che stiamo parlando di nomine relative agli enti subregionali. In questo caso sarà la giunta regionale a procedere. I principali enti in scadenza sono Fin Molise, Sviluppo Italia e Fondazione Molise Cultura. L'attuale finanziaria regionale ha alla propria presidenza l'ex sindaco di Guglionesi, Bartolomeo Antonacci. Insieme a lui compongono il consiglio di amministrazione Paolo Milano nella veste di consigliere e amministratore delegato e Donatella Di Filippo in quella di consigliere. Antonacci, vicino all'assessore Vincenzo Niro e candidato alle scorse regionali proprio con i Popolari per l'Italia, dovrebbe andare verso la riconferma. Sviluppo Italia, la società in house che opera nell'ambito dei servizi regionali per le imprese, vede come amministratore delegato Claudio Pian, vicino ad Orgoglio Molise. La lista che alle regionali ha eletto l'assessore Vincenzo Cotugno e il consigliere Gianluca Cefaratti. Alla presidenza del CDA siede Serena Melogli, mentre l'altro consigliere è Maria Giovanna Mastrobuono. Pian, che sarebbe al suo quarto mandato, non dovrebbe avere problemi per la riconferma. La Fondazione Molise Cultura è attualmente presieduta da Antonella Presutti, una nomina alla sua che risale alla presidenza Frattura. Siedono invece in consiglio di amministrazione Francesca Carnevale come rappresentante della regione Molise e Angelo Fratangelo come rappresentante della provincia di Campobasso. Anche qui la posizione di vertice dovrebbe essere riconfermata e quindi disco verde per Antonella Presutti. Quanto agli altri componenti del CDA, nessuno dei due dovrebbe essere riconfermato. Oltre agli enti in questione arriverà al vaglio della giunta e sarà quindi oggetto del riparto anche la posizione degli istituti autonomi case popolari. Al vertice degli ACP siedono attualmente due commissari, Nicola Travaglini per quello di Campobasso e Mike Matticoli per quello di Isernia. Si è svolta al dopolavoro ferroviario di Campobasso l'Assemblea regionale di articolo 1, al termine della quale è stata eletta all'unanimità la direzione regionale. Prosegue il percorso di radicamento sul territorio e ha detto il segretario Francesco Totaro l'organizzazione del partito regionale. L'introduzione della soglia di sbarramento al 5% della nuova legge elettorale, ha poi spiegato Totaro, è un colpo alla democrazia rappresentativa. Avvieremo un dialogo con le forze politiche, i movimenti civici, le associazioni che si rivedono nei valori della sinistra per costruire insieme a loro una lista aperta e plurale con cui parteciperemo alla prossima tornata elettorale. Per l'individuazione del candidato alla presidenza della regione, ha concluso Totaro, la scelta deve essere fatta in Molise senza interferenze romane, non escludiamo le primarie di coalizione. Andiamo ora a Isernia perché c'è una luce in fondo al tunnel per la pediatria del Veneziale e di conseguenza per il punto nascite. Infatti l'ASREM procederà all'assunzione di tre specializzandi che potranno prendere servizio in tempi brevi, garantendo la presenza di un pediatra a turno in sala parto. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Sanità, buone notizie per Isernia. Infatti l'ASREM assumerà tre pediatri vincitori di concorso, prorogati anche i contratti dei tecnici di laboratorio. Dovrebbe così rientrare a breve l'allarme per il punto nascite di Isernia, come è noto a rischio per l'assenza di pediatri a causa del prossimo pensionamento della responsabile del reparto e del trasferimento del secondo specialista. Infatti l'ASREM assumerà i tre vincitori del concorso a sei posti da pediatra bandito tempo fa. Gli altri vincitori hanno rinunciato, ma tre specializzandi si sarebbero detti disponibili a prendere servizio in Molise, così da fronteggiare l'emergenza del Veneziale. Sempre per l'ospedale di Isernia, da segnalare anche il potenziamento del personale del laboratorio analisi con sei tecnici che arriveranno da Agnone, dove il locale laboratorio ha chiuso i battenti. Intanto l'ASREM ha prorogato fino al prossimo 31 dicembre i contratti di lavoro a tempo determinato per 23 tecnici di laboratorio in tutta la Regione. Il provvedimento ha l'obiettivo di assicurare nel corso dell'espletamento delle procedure concorsuali la costante erogazione delle attività sanitarie riconducibili alle unità operative e strutture esterne nonché assicurare i livelli essenziali di assistenza vista l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatori concorsuali in corso di validità. La ASREM ha di fatto sospeso il servizio di trasporto dei dializzati affetti da Covid costretti a recarsi all'ospedale Cardarelli di Campobasso per ricevere le cure salvavita. È quanto denuncia in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Andrea Greco ricordando che il nosocomio del capoluogo è l'unico presidio in regione titolato a trattare questi casi. Fino a poche settimane fa, ha detto Greco, il trasporto di questi pazienti era garantito con una convenzione tra ASREM e Croce Rossa scaduta il 31 marzo ma con possibilità di proroga del servizio collegandolo al perdurare dello stato di emergenza. Col cessare di questa condizione conclude non sono però stati predisposti i doverosi correttivi di cui la decisione dei 5 Stelle di diffidare ASREM e il commissario ad acta Tom ai quali chiedono di riattivare immediatamente il servizio. Ora la cronaca, parliamo dell'omicidio di Romina de Cesare perché l'avvocato di Pietro Ialongo, Vincenzo Mercolino, è pronto a presentare una nuova istanza al Tribunale del Riesame chiedendo l'attenuazione delle misure restrittive e tutti i particolari nel servizio di Valeria Migliore. Omicidio Romina de Cesare, udienza a vuoto al Tribunale della Libertà di Roma per la richiesta di attenuazione delle misure cautelari presentata in favore di Pietro Ialongo dall'avvocato Vincenzo Mercolino. Infatti i magistrati hanno riscontrato un'anomalia procedurale in quanto l'arresto è stato convalidato dal GIP di Latina mentre avrebbe dovuto farlo il giudice per le indagini preliminari di Frosinone, luogo dell'omicidio ragion per cui entro venerdì il difensore di Ialongo presenterà una seconda istanza dopo che sarà nuovamente convalidata l'ordinanza di custodia cautelare. Le richieste del difensore restano le stesse far tornare a casa Pietro Ialongo in regime di arresti domiciliari perché sarebbe molto provato e il suo quadro psicologico non sarebbe compatibile con il regime carcerario. In alternativa Mercolino chiederà che Ialongo vada agli arresti domiciliari in una struttura sanitaria specializzata. Probabile che si punti anche a una perizia psichiatrica per tentare la strada dell'incapacità di intendere e di volere al momento dell'omicidio. C'è però da dire che queste sono le posizioni della difesa di Ialongo che dovranno confrontarsi con le richieste del pubblico ministero di Frosinone Barbara Trotta e dell'avvocato di parte civile Danilo Leva che sicuramente si opporranno a qualunque attenuazione delle attuali misure cautelari per Pietro Ialongo. Prossimo appuntamento venerdì con la presentazione della nuova istanza da parte dell'avvocato Mercolino. E c'è stato un momento di caos ieri a Termoli nella zona tra Viale d'Italia e Via Mascilongo una ragazza probabilmente straniera e incinta dopo aver scoperto il tradimento del compagno voleva lasciarlo, ne sarebbe scaturita una lite e l'uomo italiano l'avrebbe colpita in volto. La donna è fuggita dall'appartamento e si sarebbe rifugiata in un bar. Nelle vicinanze sul posto è intervenuta la polizia che si è messa sulle tracce dell'uomo. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica. Cambiamo argomento. L'Aggiunta regionale ha approvato il calendario delle lezioni per l'anno scolastico 2022-2023. Si tornerà in classe dopo le vacanze estive il 14 settembre. Le lezioni termineranno il 10 giugno 2023 nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il 30 giugno 2023 termineranno le lezioni invece nelle scuole dell'infanzia. E ora andiamo a Isernia perché l'amministrazione Castrataro non mantiene gli impegni. A dirlo è Tiziano Di Clemente con un durissimo attacco. Tiziano Di Clemente è il coordinatore regionale del Partito Comunista dei Lavoratori e accusa il sindaco di Isernia per non aver ancora abolito i parcheggi a pagamento come promesso più volte. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. Per cui l'amministrazione di Castrataro non ha il coraggio di rimuovere i disastri fatti dalla precedente giunta di destra. Che la vicenda a strisce blu fosse stata una delle colonne portanti della campagna elettorale di Piero Castrataro è noto a tutti gli isernini, non solo a Tiziano Di Clemente che ha espresso così tutta la sua delusione. Ma quella promessa di abolirle o quantomeno ridimensionarle ancora non è stata mantenuta dal nuovo sindaco di Isernia e sono sotto gli occhi di tutti i guasti provocati da un contratto che non c'è o che, meglio, non è stato rispettato dal concessionario che si era impegnato non solo a gestire la segnaletica ma anche ad attivare i parcheggi sotterranei come quello emblematico di Via Berta con un divieto di sosta completamente immotivato visto che lo stesso parcheggio non è mai stato messo in funzione. Le multe arrivano ma ingiustamente e potrebbero essere tutte contestate perché quel divieto è collegato direttamente all'attività del parcheggio sotterraneo. Ma da Palazzo San Francesco nessun segnale. Il divieto resta, il parcheggio non funziona e il concessionario continua ad incassare i proventi dei parcheggi. Purtroppo non siamo riusciti ad entrare in sintonia d'onda con questa nuova amministrazione anche per quanto riguarda le strisce blu. Loro devono prendere atto che non c'è un contratto quindi la G-Mobilità a che titolo sta riscuotendo sta pretendendo e imponendo questi ticket ai cittadini. Oltretutto vediamo parcheggi dei disabili senza segnaletica orizzontale la segnaletica orizzontale era a carico della G-Mobilità non è stata fatta, i canoni non vengono pagati. In pratica la G-Mobilità prende solo dai cittadini di Segna per un servizio che poi non è un servizio quindi vengono imposti i ticket senza che ci fosse neanche un atto propedeutico cioè la delibera di consiglio, l'ordinanza e la delibera di giunta per cui l'amministrazione deve solo prendere atto che manca il contratto deve inibire l'attività ed anzi noi vogliamo che la G-Mobilità restituisca i ticket ai cittadini visto che ha anche i numeri di targa perché ripeto li sta riscuotendo senza titolo e del resto le sentenze numerose dei giugi di pace hanno affermato proprio questo. Questa mattina nella piazza d'armi della scuola allievi agenti Rivera di Campobasso in forma privata il questore Giancarlo Conticchio insieme al direttore della scuola Valeria Moffa e di una rappresentanza degli allievi del 216esimo corso ha consegnato attestati di riconoscimento al personale della polizia che si è distinto nello svolgimento del proprio lavoro Conticchio ha sottolineato l'impegno quotidiano degli agenti per garantire sicurezza alla collettività Voltiamo pagina, c'è una polemica attorno al premio De Andrè un'iniziativa che da molti anni si tiene a Pietracatella con Vauro che presiede la giuria Uno dei componenti della giuria il giornalista Filippo Massari annuncia l'intenzione di lasciare perché ritiene intollerabili le prese di posizione del vignettista sulla guerra in Ucraina A Telemolise parla il sindaco di Pietracatella che invita tutti a tenere le polemiche fuori dal premio dedicato al grande cantautore il servizio è di Enzo Luongo Non ce la faccio proprio non riesco a restare in una giuria presieduta da Vauro Senesi Il giornalista Filippo Massari ex caporedattore della TGR Rai del Molisi si annuncia così l'intenzione di lasciare la giuria del premio De Andrè iniziativa che si tiene ogni anno a Pietracatella Come ogni anno, spiega Massari ho letto con attenzione tutte le poesie del bellissimo meritorio premio De Andrè e ho formulato le mie valutazioni ma poi ho pensato che quest'anno è diverso quest'anno c'è la guerra nel cuore dell'Europa e le vignette che a questa guerra Vauro dedica quasi ogni giorno ridicolizzando la resistenza ucraina non distinguendo tra aggressori ed aggrediti sono per me intollerabili così come ritengo inaccettabile l'affermazione reiterata da Vauro che Mattarella non è più il garante della Costituzione Massari quindi si rivolge al sindaco del paese invitandolo a non far finta di niente il primo cittadino a sua volta invita tutti a tenere fuori le polemiche dal premio No vabbè, intanto io parlo più al nome del sindaco di Pietracatella sono uno dei soci sostenitori l'abbiamo creato insieme adesso la regia emana ai ragazzi che gestiscono il premio io ho tirato in ballo da Massari su questa questione posso dire che a noi quello che interessa è più che altro il premio il premio letterario che si organizza da otto anni a Pietracatella e che vede la partecipazione di più di mille concorrenti in questi otto anni quindi una bellissima partecipazione noi per quanto riguarda le divergenze personali di opinioni tra due giurati due persone non entriamo nel merito teniamo ad entrambi e vogliamo che il premio diciamo anche come comune non venga messo in mezzo perché il premio rivaluta il Molise rivaluta Pietracatella vuole solo promuovere la sua importanza nel rivalutare la scrittura e i valori legati ovviamente a cantautore come De Andrè che sono amore futuro e come quest'anno il tema è anche pace una nuova visione di futuro che sia la pace in generale per il primo cittadino dunque nessuno deve lasciare la giuria né Vauro né Massari Sì, auspichiamo che entrambi vogliano e possano restare nella giuria al di là di qualche divergenza di opinioni che penso entrambi possano chiarire anche tra di loro ma senza tirare in ballo il premio perché il premio è altro e noi ringraziamo entrambi per la loro presenza in tutti questi anni e per aver dato lustro a Pietracatella e anche al Molise E ora ci spostiamo a Larino perché è entrata nel vivo la festa di San Pardo con la benedizione degli animali che si è svolta alla fonte che porta proprio il nome del patrono c'era per noi Francesca Danversa Dopo due anni di pandemia Larino torna a festeggiare il suo patrono San Pardo una festa che ha radici antichissime Don Claudio Cianfaglione parroco di Larino ha benedetto gli animali alla fonte di San Pardo prima della messa in cattedrale e al termine della celebrazione i fedeli si sono uniti in una fiaccolata terminata alla fonte Con la benedizione abbiamo visto tantissima gente e quindi c'è un forte desiderio di festeggiare questo santo patrono vedo che i larinesi ci tengono tantissimo e quindi sono sicuro che quest'anno sarà una bellissima festa e auguro a tutti i larinesi e ai turisti un bellissimo San Pardo Siamo qui alla fonte di San Pardo dove appunto la tradizione vuole che il carro che portò 1180 anni fa le reliquie del nostro patrono si fermò e qui scaturì per l'appunto questa fonte a cui i larinesi sono legatissimi e dalla fonte abbiamo preso l'acqua per benedire tutti quegli animali che nei prossimi giorni porteranno processionalmente il nostro santo patrono per le strade di Larino incontrare le aziende molisane italiane internazionali per avere le migliori prospettive di lavoro è l'obiettivo della giornata all'Università degli Studi del Molise aperta a tutti gli studenti ai laureati ai dottori di ricerca e c'era per noi Giovanni di Tota una giornata per promuovere consolidare e ampliare la rete tra il mondo del lavoro e l'Università orientando le scelte professionali di studenti e neolaureati a Campobasso di nuovo in presenza per favorire i contatti con le aziende un elemento chiave per le attività dell'Università degli Studi ma anche per il posizionamento stesso dell'Ateneo la giornata ha lo scopo quindi di creare un ponte con il mercato di lavoro e il mondo studentesco di laureandi laureati e dottori di ricerca è un'opportunità esclusiva per costruire un incontro tra domanda e offerta di posti di lavoro in aziende regionali nazionali e internazionali i colloqui con le aziende partecipanti sono riservati a tutti gli studenti Unimol degli ultimi anni di tutte le lauree triennali magistrali e specialistiche ai laureati ai dottorandi e a chi ha conseguito un master all'Università del Molise c'è anche una nuova opportunità che differenzia l'edizione di quest'anno i primi 50 studenti che parteciperanno saranno gli ospiti all'evento Imprenditori si diventa l'opportunità per mettersi in proprio in programma domani organizzato e gestito da Invitalia con la collaborazione del Molise Contaminazio Lab nella sala Enrico Fermi della biblioteca di Ateneo e si è parlato di Europa in un evento che si è svolto al convitto nazionale Mario Pagano di Campobasso relatori e studenti a confronto su un tema estremamente attuale che i ragazzi hanno sviluppato anche con un video e c'era per noi Giuseppe Carriera Europa contesto geopolitico economico e culturale chiamato ad una riflessione sul suo ruolo nel mondo e sulla evoluzione dello schema e dei compiti dell'Unione che vada oltre l'attuale assetto di condivisione e programmazione il tema è stato approfondito in un incontro a Campobasso nell'aula magna del convitto Mario Pagano la conferenza con le relazioni il dibattito affidati ai docenti universitari Lorenzo Scilitani dell'Università del Molise e Pasquale Pazienza dell'Università di Foggia a inizio giornata è stata scoperta una targa che ricorda e certifica la partecipazione dei ragazzi al progetto scuola ambasciatrice del Parlamento europeo riflettiamo su quello che è il discorso della festa dell'Europa in questo momento storico i ragazzi partono da una domanda ma che cosa è l'Europa ma perché l'Europa bene devo dire che c'è stato grande entusiasmo e soprattutto c'è ottimismo nei confronti dell'Europa da parte dei giovani anche se ormai si aspettano più un discorso di Stati Uniti dell'Europa quindi un'Europa che in qualche modo protegga di più e che intervenga di più e che soprattutto sia più vicino alle esigenze del cittadino questo è quello che è emerso con i giovani oggi abbiamo presentato anche il video come scuola ambasciatrice d'Europa dal titolo spacciatori d'Europa perché appunto i giovani vogliono spacciare quelli che sono i principi veri e propri dell'Europa e si è svolto oggi all'auditorium della ex GIL a Campobasso l'evento finale di presentazione degli audiovisivi prodotti dalle studentesse e dagli studenti di cinque istituti scuole medie e superiori nel progetto promosso dal Dipartimento delle Politiche della Famiglia Educare sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Educare è stato realizzato dall'ambito territoriale e sociale di Campobasso capofila in collaborazione con l'Associazione Culturale Cinematografica Lilli la cooperativa sociale B-Free e la cooperativa sociale Cairos Baranello Trivento Campobasso e Ripali Mosani le scuole protagoniste dei lavori che sono stati proiettati durante la giornata Lo staff di Dynamo Camp a Campobasso per far vivere ore di sano divertimento ai ragazzi e ai bambini con sindrome di Down e con autismo diverse le attività nella sede dell'Associazione Italiana Persone Down e nel parco di via 24 Maggio c'era per noi Tonino Danese L'inclusione rende il mondo più colorato e un mondo colorato e più bello un concetto racchiuso nella tre giorni organizzata a Campobasso dall'Associazione Italiana Persone Down che ha accolto i volontari dell'Associazione Dynamo Camp nel suo tour nelle città italiane con attività di tipo ricreativo e terapeutico per sostenere il diritto alla felicità dei bambini diversamente abili o affetti da patologie giochi drammatizzazione musica performance con clown parate in costume lungo le strade incontri e eventi al chiuso nella sede dell'Associazione Persone Down di Campobasso e nel parco di Via 24 Maggio a coordinare l'iniziativa all'instancabile Giovanna Grignoli presidente dell'Associazione Persone Down del Capoluogo che ha accolto Dynamo Camp nata in America nel 1988 grazie all'attore Paul Newman in Italia declinata dall'imprenditore molisano Enzo Maness hanno aderito anche l'Agam l'Associazione Genitori Autismo Molise e il Centro Autismo Io Sono Speciale molto coinvolgenti le attività all'aperto abbiamo accolto appunto l'invito di Dynamo Camp ad presentare le loro attività nella nostra realtà sono tre giorni all'insegna di laboratori sensoriali in particolar modo del circo del teatro e un laboratorio di percussioni il linguaggio non verbale che è il principale che poi viene fuori in tutte le persone quindi con disabilità e non disabilità proprio per questo è vincente questa iniziativa perché accoglie tutti i tipi di persone e tutti i tipi di linguaggio dal bambino più piccolo al ragazzo più grande anche persone adulte di 50 anni e sono stati coinvolti a coinvolgere anche il quartiere è stato bello vedere come le persone dalle finestre o dai negozi uscivano fuori per vedere cosa succedesse e che cosa succedeva perché c'è un corteo che gira sì c'è una parata fatta di strumenti di oggetti di vestiti di anime che si mettono in movimento e di colori che vengono fuori drammatizzazioni con i più piccoli ma non solo nella sede casa nostra insieme agli operatori di Dinamo Camp appunto stanno sperimentando alcune attività che riguardano la gestione sensoriale quindi anche la drammatizzazione le attività circensi il ballo tutte attività che appunto favoriscono l'inclusione e la collaborazione di persone che hanno disabilità diverse ma che possono comunque interagire e lavorare bene insieme tutto ciò non può far altro che bene per i nostri bambini affetti appunto da varie forme di disabilità il tutto appunto proprio valorizzando e enfatizzando sempre di più il principio dell'inclusione e con queste bellissime immagini dei ragazzi e dei bambini con sindrome di Down termina anche l'ultima edizione del nostro telegiornale vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete Telemolise buonanotte buonanotte grazie a tutti grazie a tutti